Sì, vieni, bel modetto roccio. 20, 20. Guarda, guarda. Concept. Ok, ok. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Movo tutto questo, faccio prima. Grazie. Buongiorno. Vado a fare ciascrono. Sì. Poi 4. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 2 minuti ora, Lu. Dai, sono 7, Lu, vola, cazzo fai. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Guarda che parte da 0, vai, vai, vai. Grazie. 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 bravo eh Luti, tienilo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo, bravo bravo, 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 bravo bravo, 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 bravo bravo, 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 bravo bravo, bravo, bravo bravo, 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 bra se ti piace molto di qua con la scuola, c'è un po' di scuola con la scuola voglielo un po' cerare non so se posso portarlo, si dai lui, l'ultimo giro, dai, dai, dai non via stavo l'anno, se non fosse un po' di ciassa dai lui, dai dai lui dai lui ok, lui, troppo è più veloce vai, 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 subito vai, 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 subito tempo? 7.30 vai sei dai 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 10 gomiti 8 minuti e 10 dai 2 リ gomiti dai subito subito dai 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 8.30 ruf buono dai 1 1 dai 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 2 alla volta dai dai 3 4 dai dai 3 altri due dai 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 2 1 2 1 anche tre anche dai 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 subito subito o due subito 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 9.0